Una giornata di festa che si inserisce all'interno di un percorso nato due anni fa e che punta alla rigenerazione di un'area verde molto importante per la città. Sabato 29 giugno appuntamento con Vivi il Pionta, numerosi soggetti istituzionali e del mondo dell'associazionismo che hanno contribuito al ricco programma. Un segnale verso quel percorso rigenerativo che stiamo portando avanti da due anni con tutti gli attori per la prima volta dopo tanti anni, con tutti gli attori che ovviamente hanno nel Pionta. L'iniziativa fa parte del progetto Pionta Park cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e coordinato da Narrazioni Urbane in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche Cognitive dell'Università di Siena e con il patrocinio del Comune di Arezzo e dell'azienda ASL Toscana Sud-Est. L'idea è proprio quella di far sì che questa data sia una data simbolicamente rilevante, che tutti gli anni le associazioni insieme alle istituzioni che appunto abitano il Pionta possano tornare a viverlo e renderlo davvero un luogo attrattivo. Insieme si può è il titolo di uno degli appuntamenti previsti e si prefigge di stimolare una riflessione sull'importante eredità di Franco Basaglia nel centenario della sua nascita e sull'impatto della sua opera sulla società. Il 29 giugno del 1990 infatti avveniva la chiusura funzionale dell'ospedale psichiatrico della zona retina. La novità dell'approccio che è stato, di fatto che è partito con Basaglia, è proprio quello di andare a sviluppare, individuare in ognuno di noi, in ognuna di queste persone che hanno problemi di salute mentale, le abilità che permettono alla persona di affrontare la vita di tutti i giorni in maniera completamente diversa.